Napoli è una persona pazza, probabilmente è pazza, che fa tutto quello che vuole. Che non ha regole, che si gode la vita, sa divertirsi, ma ha anche molto temperamento. Ha una personalità molto forte, molto energetica, molto viva, che si sa prendere il bello della vita. Esplora a destra e a sinistra, nel positivo e nel negativo. Si prende dei litigi, ma per quanto si prende anche l'amore. E poi ogni tanto c'è scatti e fa cose, e dici, ma che cazzo è fatto? Perché? No, No, Autore dei sovrapposti Autore dei sovrapposti